Dove ti sei cacciato? Ma guarda un po' cosa mi tocca vedere, in mezzo ai vildici, nelle locande con gli ebbre a guardare le donne. Ma non fare così, non offendere questo splendido posto, guarda, dopo tutto la loro bellezza nella loro sovertà. Guarda, io sono sicuro che qui ritroveremo il calore della terra di superiore. Buonasera, buonasera, gentili d'arri e nobili signori. Vorrei sorrazzare qui nella vostra corte, vorrei anche qualcosa da bere. Oste? Oste? Oste qualcosa da bere, oste! Non lo so, in un posto come questo cosa potrebbero mai offrire? A te niente, dovrebbero offrire a me piuttosto. Signore, 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 siate elegante, siete un po' discreto, signore, signore. Ma dove si è cacciato, signore? Ah, eccoti qui in mezzo ai villani a portare le donne. Ehi, vado a trattare male questo bellissimo posto, non vedi che la loro bellezza è nella loro povertà? No, guardi, guardi quanto è povero, guardi. Io sono sicuro che qui ritroveremo il calore della terra della Puglia. No, scusate, signore, ma questa volta io voglio dare ragione alla vostra metà. E' un gioco così villico come me. Calcita, guarda che ti frusto per benino, eh. Ma persino qui questo buon vino. E brindiamo in mezzo a questi villici delle loro umili locale. Alzate tutti i calici insieme a noi. Brindiamo insieme così che possiate diventare per un attimo nobili. Alla goccia! Alla goccia! Alla goccia! Alla goccia! Alla goccia! Alla goccia! Alla goccia!